E' anche e soprattutto perché è nato a Napoli, perché ha respirato l'aria di Napoli, perché ha incontrato i suoi concittadini. 30 secondi, il suo augurio, il suo appello, insomma il suo pensiero notturno, Diego, da Napoli, la città di Paolo Sorrentino. Beh, che dire, dal 2004, dalla sua prima apparizione a Cannes con le conseguenze dell'amore, sono passati quasi 10 anni. Noi non possiamo fare altro che augurare a Paolo Sorrentino, incrociando chiaramente da buoni napoletani le dita, le migliori fortune. Carlo Bucirosso, giustamente, e così come lei Marzullo, da buon campano, possono confermare. Noi crediamo fortemente qui da Napoli in quello che, diciamo, si augura un po' tutta l'Italia. Forza Paolo Sorrentino. Perché poi, diciamolo, è notte fonda. In effetti, poi, alla fine, nonostante tutto, chi è bravo vince. Buonanotte, vi aspettiamo domani notte. Cinematografo, speciale Cannes, l'unico appuntamento di cinema in televisione, sul Rai 1. Un saluto cinematografico. Un saluto cinematografico. Un saluto觀ente come lei Marzullo, ma sono carte di Common. Come lei Marzullo. Cheah un sonore commerciale. Cheah un sonore ? Come lei Marzullo, ma sono state auto 1967 Somete lavorare. A pesanti 사oni lairona. Come lei Marzullo, ma sia un sonore Hudson, matable. Come UNCle technografico. Come lei Marte, ma che ne? Come lei Marzullo, ma cebfo. Conselo, ma schia non è un sonore, maounidi, ma una ragazuri. Amore massa eh un brand.